Giorgio Bertola, Alberto Cirio, Sergio Chiamparino, Walter Boero saranno i protagonisti di una speciale puntata di extra dedicata al voto del 26 maggio. Il settimanale di approfondimento della redazione di Vici Azzurra TV accende i fari sulla corsa elettorale di Piazza Castello. I quattro contendenti la più importante poltrona amministrativa si sfidano a suon di risposte sui temi più caldi del dibattito politico locale. Dunque ospedale unico, trasporti, turismo, canonidrici. Si parte dalla sanità, tema da sempre caro al verbano Cusiossola. Il candidato grillino non ha dubbi sulla bontà del progetto ospedale unico, ma in caso di elezione è pronto a rimettere in discussione l'ubicazione. Siamo stati i primi a chiederlo per questo territorio. Nel frattempo, finché non ci sarà il nuovo ospedale, bisogna mantenere i servizi sul territorio e in futuro negli ospedali attuali di Domodossola e Verbagna devono restare dei servizi a valenza sanitaria. Quindi sia all'ospedale ma non sulla collina di Ornavasso. Cirio invece è pronto a ridare la parola al territorio in caso di sua elezione e si dice sicuro dell'unità della coalizione sulla scelta. Il territorio dovrà esprimersi. Se il territorio vorrà l'ospedale unico si procederà in questa direzione. Se invece riterrà più corretto tenere gli ospedali di Domodossola e di Verbagna, i 65 milioni circa che la regione ha già stanziato verranno equamente distribuiti tra i due ospedali per potenziarli. Chiamparino, che dell'ospedale unico del Vicione ha fatto una bandiera politica, non ha dubbi sul reimpiego futuro degli attuali ospedali. Non diventeranno, non cambieranno destinazione e serviranno ad arricchire, ad esempio, trasformati in presidi sanitari di base, ambulatori, letti di continuità assistenziale, lavoro comune dei medici di famiglia, aumentando così nel complesso l'offerta di politica per la salute per l'intero territorio. Boero guarda l'esperienza dell'ospedale unico di Verdun e consiglia al Vicio il potenziamento delle attuali strutture sanitarie. Il grande progetto di un ospedale unico mette in crisi tutto il territorio, mette in crisi la necessità per coloro che abitano in un ambiente così particolare come quello alpino di raggiungere un posto centrale. Forse era più economico potenziare i singoli ospedali, aggiungendo magari delle specialità, potenziandole.